Il 2021 per la Lombardia e per tutta Italia deve essere l'anno della rinascita, della ripartenza, della salute, della speranza e quindi sono contento della nuova squadra, mentre a Roma stanno litigando da due mesi al governo per poltrone noi in pochi giorni abbiamo messo in piedi una squadra nuova, facendo come lega una roba strana facendo dimettere dal Parlamento e dagli incarichi romani persone che hanno fatto i ministri e i sottosegretari tornano ad amministrare la loro regione, quindi a riprova del fatto che noi siamo vicini ai territori quindi da oggi parte una squadra ancora più forte.